A molti potrebbe sembrare un vero e proprio miracolo, e sì perché di questi tempi parlare di parcheggio gratuito e nuova illuminazione nell'area antistante dell'ospedale Perrino sa proprio di manna caduta dal cielo. E sì perché la ASL ha concesso in comodato d'uso gratuito per dieci anni al comune di Brindisi proprio l'area parcheggio antistante, il nosocomio brindisino, siglando un protocollo d'intesa. Il comune si impegna non solo a rendere gratuita l'area ma anche a rigenerare il verde e appunto ad installare una nuova illuminazione esterna, come sottolineato dal vice sindaco Vincenzo Ecclesie. Sensibili a questo problema noi abbiamo richiesto questo terreno alla ASL che con altrettanta sensibilità hanno dato questa loro disponibilità. Noi ovviamente adesso abbiamo preso possesso del terreno, nell'immediato abbiamo programmato degli interventi finalizzati all'illuminazione dell'aria perché fino ad oggi purtroppo uno dei problemi più seri, soprattutto nel periodo invernale, è che già nelle prime ore del pomeriggio si creava delle zone d'ombra che non consentivano un stazionamento agevole. Quindi creeremo l'impianto di illuminazione e come ho detto prima anche delle aree a verde che possa rendere appunto più gradevole anche lo stazionamento degli utenti. Ma a questo punto la domanda è d'obbligo. Come intende il Comune abbattere la piaga dei parcheggiatori abusivi che ormai da anni sono un tutt'uno con l'area parcheggio nei pressi dell'ospedale? Noi diciamo nell'emore di ultimare questi lavori abbiamo chiesto l'intervento dei vari organi di polizia perché ci sia un servizio di viginanza. Ovviamente ci saranno anche la nostra polizia urbana che interverrà periodicamente per debellare questo fenomeno. Come ASL abbiamo accettato subito la richiesta del sindaco, ha affermato il direttore generale della ASL, Paola Ciannamea. Dunque la ASL ci ha incomodato uso l'area parcheggio all'esterno del Perrino per provare a migliorare i parcheggi degli utenti che si recano presso il nostro comio Brindisino? Sì sì sicuramente è questo il progetto cioè dare al Comune che come ho già detto si è offerto di fornire questo servizio ai cittadini gratuitamente. e quindi sarà a carico del Comune poi diciamo la gestione di tutto il parcheggio e si farà carico anche dell'impianto di illuminazione e della sistemazione delle aree che saranno destinate al parcheggio.